Ciao a tutti! Durante un progetto di Inbound Marketing mi hanno chiesto di spiegare velocemente che cos'è l'analisi SWOT. L'acronimo sta per Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. È uno strumento di pianificazione strategica che serve per valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce. Aiuta a prendere decisioni analizzando l'ambiente interno e quello esterno. Il nostro network utilizza spesso la SWOT Analysis e il miglior consiglio che vi posso dare è di legarla sempre a un goal per riuscire a guidare al meglio risorse e strategie aziendali. Concentrazione, concentrati in azione!